La grave situazione di precarietà in cui da tempo vive il pronto soccorso dell'ospedale Spocchi di Locri, unita alla mancanza di sicurezza sul posto di lavoro, ha raggiunto livelli non più sopportabili. Ieri il segretario provinciale della Guile FPL, Nicola Simone, allegando le copie dei turni dei medici del pronto soccorso predisposti fino al prossimo 24 dicembre, ha denunciato tale stato di cose con un'articolata nota indirizzata alla direzione provinciale dell'ispettorato del lavoro. Nella nota il segretario provinciale della Guile FPL evidenzia di aver più volte segnalato agli organi preposti dell'Asp di Reggio Calabria la grave situazione in cui versa la sanità presso il presidio ospedaliero di Locri e in particolar modo la situazione del pronto soccorso che ormai da tempo si vede depauperato da personale medico. Situazione, questa più volte evidenziata, anche dagli organi di stampa e dal primo cittadino di Locri Giovanni Calabrese. Simone sottolinea che tutta questa situazione deriverebbe dalla circostanza che i medici assunti specificatamente per l'emergenza urgenza vengono utilizzati in altre discipline non garantendo una postazione di vitale importanza per la vita dell'ospedale e degli stessi pazienti. Questa utilizzazione fa sì che i pochi medici rimasti in servizio presso il pronto soccorso Locri e sono costretti ad effettuare i turni massacranti con una sola unità nel turno notturno e qualche volta si impone al medico montante alle ore 14 con disposizione di servizio emanata dalla direzione sanitaria ospedaliera di proseguire il turno fino alle ore 8 del giorno successivo, 18 ore di lavoro continuativo senza alcuna pausa. Accanto a queste gravi criticità che già da sole impediscono agli operatori sanitari in prima linea di poter operare con serenità e tranquillità, deve aggiungersi anche quella inerente alla sicurezza sul posto di lavoro? Non a caso il segretario provinciale della GUIL FPL segnala all'ispettorato provinciale del lavoro che l'incolumità del personale del pronto soccorso non è tutelata dalla presenza di un posto fisso delle forze dell'ordine ma vi è solo una guardia giurata per tutta l'aria ospedaliera, troppo poco e dunque per superare questo stato di cose, Simone ha richiesto all'ispettorato provinciale del lavoro di voler intervenire con la massima urgenza per accertare eventuali violazioni delle norme che tutelano la sicurezza dei lavoratori e che possono portare a gravi ripercussioni anche sull'utenza.